Antonio rientra, uccide tutti, dovremmo andare in super spremuta, in cedro anche! Super spremuta! Ma guarda il super spremuto, ti chiedeva a frenare, ti indagano il bambino! Ma che cazzo va? Uno di Simo, parto la parattia, parto la parattia di Ulli credo! Simo muro contro Ulli! Cosa accade? Il vostro Simo è dritto! Mi ha perso da due capelli davanti! Disastro! Cosa accade? 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. Ok, via libera. a tutti. 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 accorcio pesantissimo. a tutti. a tutti. a tutti.